Se l'olio extravergine di oliva di qualità prodotto in Molise da sempre è una delle eccellenze della nostra terra, Bagnolio, la giornata evento dedicata all'extravergine che si è svolta a Bagnoli del Trigno, si conferma anno dopo anno come occasione di incontro, crescita e valorizzazione per tante aziende agricole e frantoi provenienti da tutta la regione. È un ventaglio di nomi, di cultivare autoctone che si sviluppa da Venafro, del cui olio già in epoca romana Licinio decantava Livestù, fino alla costa molisana, passando per le dolci colline dove alberi secolari o nuovi impianti, realizzati sempre nel massimo rispetto della natura e dei suoi frutti, garantiscono un'ottima qualità del prodotto, oltre che uno splendido colpo d'occhio per gli amanti del paesaggio. A Bagnoli del Trigno ben 20 produttori hanno partecipato al concorso Molisani MOS 2014, a spuntarla nella categoria fruttato intenso, l'extravergine presentato dall'azienda agricola Mastragostino di Mafalda, che così ha bissato il successo ottenuto nel 2013. Per la categoria fruttato medio, l'extravergine presentato dall'azienda Moli di Passarelli Giovanni, proveniente da Mirabello Sannitico. Nella categoria fruttato leggero, avere la meglio è stato l'olio prodotto dall'azienda agricola Tamaro Giorgio di Colletorto. Per i vincitori, le targhe offerte dalla provincia di Isernia e le auliere artistiche realizzate in rame di Agnone e offerte dalla Camera di Commercio di Isernia. Consistente la qualità di tutti gli oli iscritti al concorso, difficile il lavoro degli esperti che hanno effettuato la valutazione presso la sala panel di Campochiaro, ma tutta l'iniziativa dedicata all'extravergine, sviluppata a 360 gradi, ha proposto diversi momenti ricchi di interesse. Una mostra a mercato affiancata ad una tavola rotonda in cui esperti, istituzioni e operatori del settore hanno potuto realizzare un focus su qualità del prodotto, sistemi di estrazione, rispetto e valorizzazione dell'ambiente del paesaggio e connotazione territoriale come risorsa. La terza e ultima parte dell'evento si è svolta invece a tavola, con la degustazione guidata di un menu interamente caratterizzato dall'extravergine di oliva e soprattutto da oli monovaritari ottenuti da cultivar autoctone. Queste eccellenze sono state oggetto della cura e della fantasia di uno staff di cuochi, capitanati dallo chef del calice rosso, Marx Dinella, che ha illustrato in sala peculiarità e metodi di preparazione di ogni singola specialità. A fare da cornice all'evento, che si è svolto all'interno della Domus Area, anche un tocco d'arte con il vernissage dell'artista molisana Maria Grazia Orlando. La manifestazione è stata organizzata dal Cenacolo Culturale del Calice Rosso, in collaborazione con l'Associazione La Chiave della Salute e il patrocino dell'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali del Molise della provincia di Isernia e della Società Italiana di Orticoltura.